La bambina aspetta poco distante mentre regge una bicicletta d'adulto e lui ripulisce le auto parcheggiate. Ma questa volta è andata male da un trentenne moldavo in vacanza a Pergola dalla nonna della bambina di 5 anni, figlia della compagna. A smascherare l'uomo è stato l'intuito della moglie di un carabiniere che, insospettita dall'uomo che scrutava l'interno di un'auto fuori da un supermercato, non ha esitato a chiamare i colleghi del marito che sono subito intervenuti cogliendo sul fatto il moldavo con ancora addosso il portafogli rubato poco prima dall'auto. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e nella mattinata di oggi portato davanti al giudice Di Pesaro che ha condannato il moldavo a sei mesi d'arresto con pena sospesa e la bambina affidata alla madre previo accordo del Tribunale dei Minori di Ancona.